Da Boschi non si è autonominata, qualcuno l'ha nominata lì, per cui lei poteva anche non prendersi le responsabilità, però magari qualcun altro poteva decidere di non darle un ruolo. In più di un'occasione mi è stato chiesto di assolvere a dei compiti e io non ho accettato. Eh sì, ma non è che sia autonominata lì, qualcuno l'ha messo ugualmente, non è che è comparsa lì. Perché quello che è del governo rifatto con gli stessi ministri, bisogna anche dire che la gente ha votato no, un po' perché qualcuno è entrato nel merito della riforma, buona parte delle persone perché hanno bocciato le politiche messe in campo da questi ministri, per cui ritrovarseli lì comunque è un'offesa a tutti i cittadini, al voto di tutti i cittadini.